Dove ci troviamo oggi? Come ti chiami? Allora, mi chiamo Aloha, mi chiamo Aloha, siamo qui allo skydive di Ipano, sono emozionatissima. Ma sei venuta a far sorpresa? Allora, la sorpresa me l'hanno fatti i miei vicini e i bambini del mio quartiere, è grazie a loro che posso fare questo volo che per me è un sogno, quindi io non sto più nella terra. Quindi sei cosciente, non ti ci hanno portato? No, 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 era un mio sogno, loro l'hanno saputo e mi hanno fatto questa sorpresa enorme. Bellissimo. I bambini del quartiere nonna, insieme ai genitori e tutto, mi hanno fatto questa sorpresa e hanno realizzato il mio sogno, quindi sono felicissima. Poi gli faremo vedere il video? Cioè, al minimo sì, non aspettano altro loro a vedere foto e video. Grazie. Allora, ti hanno fatto un bellissimo regalo, ti rassicuro, poi dopo me lo confermerai te. Ah, no, 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 già, guarda, già, per l'emozionato pronta. Poi guarda che bella giornata, oggi è spettacolare. Eh, ci sono venuti pure a vedere, sì, vedi? Ciao! Ciao! Mamma! Ciao! Ciao! Salutate! C'è il mio babbo, c'è tutti, sorella, amici. Allora, Loa, in aria sarò di fronte a te, guarda a fare la telecamera, sorridi, divertiti, ok? Perfetto! Sarà una figata pazzesca! Grazie! Saremo una di fronte all'altra, Imaria. Ti tieni la testa bella alta, ti vedo bene in mezzo, quindi comunque guarda all'orizzonte, i codi di colorano, tutti i modi. La mia cosa è che tu, tutti si esponziati quando te la vedete a me, guardi un diverso terra. No, io guardo a te, so che devo guardare davanti a te, lì, lì o quello sotto? Eh, è l'esplosso, l'alto, una qualunque o l'alto di video. Andiamo allora! Andiamo! Siamo pronti? Paragatute, l'hai preso? Ci vediamo al ritorno! Ciao! 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 Ciao!